L'Abruzzo, per essere regione d'Europa, deve fare di più per i disoccupati di lungo corso, che sono più della metà dei senza lavoro, spesso in un'età anagrafica in cui è molto difficile ricollocarsi. A dirlo non sono i sindacati e la Commissione Europea, che il 17 settembre ha inviato una nota a tutte le regioni, Abruzzo compreso, ricordando che la disoccupazione di lungo corso è stata individuata dal Parlamento Europeo nell'ambito della strategia Europa 2020 come uno dei principali ostacoli alla crescita, chiedendo di destinare alla soluzione di questo problema più fondi nell'ambito dei programmi europei e incrementare la formazione e le politiche di reinserimento. Oggi la comunicazione è stata esaminata dalla Quarta Commissione Consigliare della Regione. A nostro microfono il Presidente Luciano Monticelli. È una risoluzione che portiamo in quanto sulle prossime future tavoli che ci saranno tra il Governo centrale e la Regione Abruzzo che ha di competenza i servizi per l'impiego. Dovranno attuarsi delle politiche, giuste io considero, che guardino con chi ha una lunga percorrenza di fattore non lavorativo. Questo perché genera problematiche all'interno della persona, della famiglia, ha dei costi sociali e sanitari anche alti. Quindi massima attenzione anche sulla programmazione europea e sui fondi che noi stiamo destinando con l'FSE e di destinare una quota particolare impegnativa. Va nella stessa direzione la proposta di legge regionale, anch'essa all'esame delle commissioni, che intende sperimentare il reddito minimo garantito da 600 euro circa al mese nei comuni di Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Letto Manopello, Manopello e Tocco da Casauria, in provincia di Pescara. È una richiesta fatta da cinque comuni. La Costituzione italiana riconosce che i comuni possono fare i provvedimenti di legge e chiedere alla regione Abruzzo, in questo caso, del reddito minimo garantito. La proposta di questi cinque comuni qual è? È quello di dare un contributo intorno alle 609 euro al mese, che hanno dei requisiti naturalmente, che non abbiano reddito. Poi ci sono delle varie scaglioni che se dovesse capitare, in cui c'è un lavoratore che lavora, una famiglia, ci sono degli accorgimenti che...